Rientriamo nella nostra diretta Teletutto racconta, si parla di un libro ma si parla anche di alimentazione con Living, o meglio Loving Superfood. Abbiamo con noi Tiziana Lugli, fondatrice Erbavoglio e naturalmente anche erborista. Buonasera Tiziana. Buonasera Andrea. Benvenuta in Teletutto racconta. Allora il libro in questione è in questo momento tra le mie mani e si parla di alimentazione, di uno stile di vita sano e corretto proprio anche partendo dalla tavola. Questa è la copertina del libro. I Superfood sono cibi di origine vegetale ad alta concentrazione di nutrienti e tra poco ne parliamo con l'autrice del libro. In realtà non è sola, giusto? No, sono coautrice insieme a Stefano Momente che è un giornalista esperto di alimentazione vegana tant'è che ha fondato Vegan Italia nel 2001 e praticamente con lui abbiamo deciso di raccontare questi cibi che sono straordinari, che sono approdati nelle nostre tavole ormai da qualche anno e che ci fanno veramente stare bene pur essendo semplicemente degli alimenti, non essendo dei farmaci però avendo tutte le peculiarità che possono offrire dei vegetali complessi e completi. Certo. Allora innanzitutto dov'è disponibile il libro? Dove lo possiamo trovare? In libreria. Potete comprarlo nei negozi e anche nelle erboristerie e anche online ovviamente. Loving superfood? Loving superfood. Ok, quando un super cibo può cambiare la vita, questo è il sottotitolo. Lei naturalmente segue tutto questo nella quotidianità ormai da parecchi anni, professionalmente non solo, credo che anche sulla sua tavola il cibo sia sano. Sicuramente, cerchiamo di mangiare genuino, cerchiamo di completare la nostra alimentazione con cibi biologici che siano ovviamente selezionati, che non contengano additivi, che non siano trattati perché la nostra salute passa proprio dal cibo. Prima di tutto, mangiare sano significa avere una buona salute, stare in forma, sentirsi bene. Quindi questi alimenti che sono da mescolare alla nostra quotidianità, alla nostra forma di vita quotidiana, per come noi siamo abituati a mangiare, aggiungendo per esempio nei frullati, nell'insalata, nella minestra, parlando per esempio di bacche, come le più note ormai sono le bacche di goji, ma passiamo anche alle bacche inca, alle bacche di shishandra e tante altre sostanze così da utilizzare, anche semplicemente da sgranocchiare durante la giornata per apportare tutti quegli elementi e tutte le cose indispensabili per stare bene. Come mai avete sentito l'esigenza di scrivere un libro e proporlo nelle librerie? Perché essendo i superfood, essendo ancora abbastanza sconosciuti, non essendo così noti a tutta la popolazione italiana, però essendoci la globalizzazione ormai è arrivato e stanno arrivando tutte queste notizie, queste innovazioni che entrano a far parte piano piano quasi di soppiatto nella tradizione anche della nostra cucina. Per cui raccontare in un libro semplice, con anche allegate delle ricette che rendono l'utilizzo di queste sostanze molto più facile e molto più semplice, fa in modo che la cultura di questi popoli che noi portiamo in Italia diventi una cultura che poi può essere approfondita e può essere utilizzata normalmente nelle nostre giornate, nelle nostre diete. Però non tutto arriva da lontano. No, non tutto arriva da lontano. Alcune cose sono già presenti. Il broccolo per esempio già lo utilizziamo e quindi già per esempio anche la canapa sta ritornando la coltivazione della canapa anche in Italia e quindi già quello ci invita a far sì che anche noi pensiamo di poter rintrodurre nelle nostre coltivazioni, nella nostra agricoltura, dei vegetali che magari non sono stati più utilizzati. Però ci sono anche quelli che normalmente già noi utilizziamo. Io leggo nella prefazione di questo libro, che tra l'altro lei stessa ha scritto, Ho studiato tanto tempo fa l'arte dello speziale, comprendendo i valori di un mondo quasi dimenticato. Tra mortai, provette e bilance ho scoperto il messaggio che la natura contiene in ogni erba, le sue proprietà benefiche e i suoi utilizzi per l'uomo. Un mondo più vicino alla vera essenza dell'universo e la sua vera natura. La bellissima sensazione di poter portare un nuovo messaggio, una nuova cultura. Fa riflettere, cioè nel senso che una nuova cultura però in realtà è legata a qualcosa... Alla tradizione, al passato, all'energia che ogni pianta, ogni parte della natura sprigiona negli esseri. Per cui un approccio olistico anche di sensazioni, di percezioni, di vibrazioni che possono entrare a far parte del nostro mondo, ecco, nella nostra... Che benefici ci possono dare i superfood? Beh, diciamo come ho detto prima che contenendo tutte le vitamine, tutte le sostanze benefiche che noi introduciamo a volte prendendo degli integratori supplementari al nostro cibo, qua troviamo questa integrazione senza dover passare da pillole e altre sostanze che possono essere più lontane da quello che è un concetto di cucina, di alimentazione naturale. Quindi, non so, fare la mattina un frullato con i semi di chia, i semi di canapa, le bacche di goji oppure le bacche inca porterà ad avere per tutta la giornata una sensazione di benessere perché introduciamo tutto quello che il nostro organismo si aspetta che noi introduciamo la mattina per stare bene. Quindi l'imprinting giusto per affrontare anche lo stress da lavoro oppure le mamme che devono spaziare tra scuola e poi ancora oratorio, palestre... Sì, diciamo che lo stress accompagna ormai la vita di tutti quanti e non è una medicina che ci fa bene. In effetti lo stress è meglio tenerlo a bada. Quindi per tenere a bada lo stress, per esempio, con i semi di chia, che è la salvia ispanica, possiamo allontanare lo stress semplicemente con un cucchiaino di questi semi messi anche sull'insalata, nelle minestre, nelle pietanze, oppure in un frullato, nello yogurt, come preferiamo. Certo. Allora, molto interessante, sicuramente da leggere, da riportare poi all'interno della nostra alimentazione. Questi consigli, ci sono anche delle ricette? Ci sono un sacco di ricette semplici, molto semplici. Troverete anche, per esempio, fare la pasta in casa aggiungendo della polvere di spirulina, che è un'alga famosissima ormai, ricca di nutrienti, di tutte le vitamine che possono essere utilizzate semplicemente nella pasta e quindi fare dei biscotti o la pasta, le tagliatelle e poi sbizzarrirsi anche con la fantasia, perché ci sono anche delle ricette che sono molto particolari, fatte con la curcuma, per esempio, che è una spezia che sta entrando moltissimo nella nostra alimentazione adesso, perché ne stanno parlando anche i medici, la consigliano come antiossidante, come prevenzione per il fegato, per alleggerire un po' tutto l'organismo, per depurarci adesso che siamo in primavera. Quindi utilizzare la curcuma così com'è, tal quale, oppure fare dei mix mescolandola con del latte di soia, del latte di riso, una speziata di pepe nero, un'aggiunta di pepe nero che ne stimola l'assorbimento, fa in modo che anche queste ricette semplici da utilizzare, perché poi si mescola nella bevanda che preferiamo e si utilizza tutto durante la giornata. Di ricette ne troverete veramente tante, carine, molto carine, tutte sperimentate, per cui anche i gusti non sono mancati, cioè siamo stati attenti ad utilizzare per il palato, anche al quale noi siamo più abituati, e quindi potete anche sbizzarrirvi nel leggere le ricette e nel poi farle. Che poi spesso il colore cattura anche l'attenzione e la voglia dei bambini, no? Molte volte si riesce a mascherare qualcosa anche con il colore per renderlo accattivante, proprio per i bambini. Questi sono dei piccoli consigli, quindi non è che bisogna cambiare totalmente lo stile di vita, qui sono dei consigli mirati. Sì, sì, sono proprio dei consigli, perché una persona abituata magari a mangiare normalmente, non è né vegano né vegetariano, però vuole integrare con qualcosa di particolare, che ha un sapore magari diverso dalle solite sostanze a cui siamo abituati, ma neanche più di tanto. Per cui abbinare ai nostri piatti, ai nostri cibi, per esempio, non lo so, il cumino nero sul pesce, su un'insalata mista, abbinare delle cose che magari non ricordiamo che possano far veramente bene, ma che veramente in effetti quando vengono utilizzate ci danno una carica diversa. L'olio di cumino nero, per esempio, è usato in Egitto moltissimo insieme ai datteri, cioè si mangia anche il seme di cumino, oppure si mescolano i datteri con questo olio e si mangiano così perché dicono che vivono molto di più, quindi diventano elisira anche di lunga vita. È molto interessante. Allora, ricordiamo un sito internet erbavoglio.it, con noi c'è Tiziana Lugli che è appunto la fondatrice di Erbavoglio e anche riconosciuta a livello nazionale erborista. Il libro che abbiamo presentato questa sera ed è presente nelle erboristerie, ma anche in libreria, è Loving Superfood. Questa è la copertina del libro che possiamo vedere, lo potete acquistare, lo potete sfogliare, lo potete far vostro anche giorno dopo giorno nella vostra cucina. Ringraziamo Tiziana Lugli, grazie mille. Grazie Andrea, grazie a voi. Noi ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco dopo la pubblicità.